Ciao a tutti gente, io sono Dili e benvenuto e bentornati sull'altro fumetto. Oggi 10 più 12 che mi avete suggerito voi, fumetti muti. Ma prima di partire vi ricordo che qua sotto c'è un simpatico tastino per mettere un like, da che non costa niente, vi consiglio quando vi facesse piacere di iscrivervi a questo canale e vi ricordo che trovate in descrizione sia la mia pagina Facebook che il mio profilo Instagram e trovate i link a tutti questi fumetti che vi mostrerò oggi o almeno a quelli che ci sono su Amazon, ma solo se non avete una fumetteria nelle vicinanze, vi mi raccomando. Altra premessa, che senso ha leggere un fumetto muto o comunque fruire di un fumetto muto perché magari dire leggere non è proprio il termine più corretto? Vale la pena farlo semplicemente se apprezzate i disegni? No, in realtà no, perché il fumetto muto non è un artbook, ovvero non è solamente un insieme, solamente tra virgolette per carità, un insieme di disegni, ma una trama. Quindi questo è il bello del fumetto muto. Perché leggere un fumetto muto? Leggere un fumetto muto è importante perché più o meno consciamente cominciamo nella nostra testa creare dei dialoghi per i personaggi e in più sta alla bravura dell'autore o dell'autrice riuscire a narrare qualcosa senza dire una parola, dare giusto ritmo alle vignette e soprattutto riuscire a trasmetterti delle emozioni, delle sensazioni senza dire una sola parola. E altra cosa super mega figa secondo me è proprio il fatto che siamo noi a dare veramente un ritmo alla narrazione. Cioè, mentre in un fumetto con i balloon, con la narrazione classica, bene o male siamo legati alla velocità della lettura, quindi in base a quanto leggiamo veloce e il ritmo che diamo alla narrazione, qui sta veramente a noi soffermarci su alcune tavole, su alcuni momenti, andare più veloci in altri, quindi sta veramente a noi dare il ritmo a tutta quanta la narrazione. Questo lo trovo molto affascinante. Direi che per essere un video sui fumetti muti ho parlato già abbastanza, quindi partiamo. Il Pinocchio di Winschluss è un classicone dei fumetti muti, purtroppo io ho questa vecchia edizione che si è un po' scollata col tempo, ma la Comicon ha fatto un'altra edizione cartonata molto più figa e questo è veramente ormai un classico. Fondamentalmente vediamo questo Pinocchio rivisitato, questo Pinocchio in questa storia è un'arma di guerra, quindi viene utilizzata per fare del male, ma lui non vuole. Disegni super intensi, una storia toccantissima. Ma va detto che in realtà ci sono degli intermezzi parlati in questa storia, quindi non è totalmente muto, perché ci sono degli intermezzi in cui vediamo il grillo parlante vivere nella testa di Pinocchio, quindi ogni tanto qualche dialogo c'è. Ma la maggior parte della storia comunque è muta ed è veramente meravigliosa. Fran di Jim Woodring, in realtà ci sono diverse storie di Jim Woodring mute, anzi quasi tutte, c'è almeno un trittico legato a questo personaggio di Fran, diversi di voi mi hanno consigliato anche altre opere di Jim Woodring, che appunto è un grande esponente del fumetto muto e fa queste robe surreali e assurde in questo mondo psichedelico con creature eccentriche e queste specie di gatti barra cani che vivono queste avventure fuori di testa. Veramente una roba super particolare con questo tratto, con queste linee ossessive ovunque, veramente super coinvolgente, super divertente e super ritmato. Se voi gli date il giusto ritmo per il concetto di prima. Fingerless di Spugna, un'opera molto recente di Spugna, un'opera totalmente muta, un'opera horror angosciante in cui vedremo delle bizzarre creature scendere dal cielo e cominciare a risucchiare i tratti delle persone. Una roba veramente disturbante, un'enorme metafora del consumismo in diversi punti. L'unica cosa che vedremo scritta in questo volume sono le onomatopee, i colori super mega eccentrici di Spugna che ormai lo caratterizzano. Veramente un'opera, secondo me, da recuperare. Divine Colonie, che in realtà essendo un fumetto francese dovrebbe essere tipo Divine Colonie, non so come si pronunci. Storia di colonialismo e di tutto quello che consegue il colonialismo. Un tratto veramente figo, in alcuni punti un po' picassiano, con queste teste deformate, quasi cubiste. Molto bello, appunto, e molto sul maschilismo e sulle ingiustizie del colonialismo. Quindi ci sono un sacco su quanto gli schiavi, perché diventavano fondamentalmente schiavi che venivano catturati, diventavano proprietà del padrone di turno. Veramente un'opera intensa, particolare e coinvolgente. Lude, un'opera veramente interessante perché fondamentalmente sfrutta l'escamotage della discoteca per togliere dialoghi, ovvero ci mostra questa serata in questo club folle in cui succede di tutto e di più, in cui non si può parlare perché la musica è troppo alta fondamentalmente. Quindi con questo escamotage narrativo creano un fumetto muto super ritmato in cui succede veramente di tutto e di più. Forse verso il finale c'è qualche parte che non si capisce neanche tanto. Occasionalmente c'è qualche frase, ma è veramente più unica che rara, sono veramente pochissime in tutto il volume, ma ho apprezzato un sacco quest'idea dell'escamotage appunto narrativo del locale, della musica altissima e quindi del fatto che non si potesse parlare perché c'è troppo casino. In questo locale appunto succederanno cose eccentriche, fuori di testa, dall'esplicitamente sessuale all'uso di droghe, cose anche abbastanza paranormali. Comunque un volume interessante. E prima di andare avanti con le altre cinque opere, andiamo a vedere le dodici opere che avete consigliato voi. E cominciamo questa rapidissima carrellata, se non il video diventa eterno, con la Prodo. Un ultimo saluto a moglie e figlia e via, si parte in un nuovo mondo l'esperienza dell'emigrante in una serie di tavole che fanno trattenere il fiato. Continuiamo con la mosca di Trodehim, buffo innovativo, muto, movimentato, un piccolo caporavoro fuori dalla convenzione, geniale nella sua incredibile semplicità, appunto, perdonatemi se vado veloce, ma se no non ne usciamo più vivi. Abbiamo Gon, che è stato ristampato da non tantissimo in un cofanetto, nato nel 1991, o milioni di anni fa, ironizzano nella trama. Gon è diventato in poco tempo per uno dei personaggi più riconoscibili dei media nipponici, in più diciamo che è diventato anche famoso per la sua partecipazione in Tekken 3 come personaggio bonus. E pare essere veramente ironico questo Gon, quindi in realtà non me ne è ruminamente cacato quando è uscito, ma un pochino mi ispira. Poi abbiamo Sh di Johnson, un'acuta serie di racconti che vanno dal divertente al terrificante, dal surreale al toccante, il tutto raccontato interamente in pantomima. Si prosegue con Love, che sta stampando la salda pressa, in realtà Love è una serie divisa in più volumi, dovrebbero essere quattro in tutto in Italia, se non sbaglio sono usciti tre, ma prendete questa cosa con le pinze, e ogni volume parla di un animale. Quindi c'è stato il cane, il leone, i dinosauri e la volpe, di Frederic Bremond e Federico Bertolucci, ai disegni. Poi abbiamo The Boxman Sakabashira, un lisergico e psichedelico viaggio costellato di visioni surreali, fra evoluzioni pop-arte, critica sociale. Questo mi ispira veramente un sacco, effettivamente non vi nego che mi ispira un sacco. Vi chiedo scusa se vi sto mettendo solamente le copertine, ma se vi mettessi ogni volume un tot di pagine, non ne usciremo vivi, perdonatemi. Poi c'è il Fantazoo. Il Fantazoo io non sapevo neanche che fosse tratto da un fumetto, porca miseria ladra. Nei tardi anni Ottanta, il Toro Alvaro con i suoi caratteristici zoccoli. Cioè, guardavate i cartoni del Fantazoo o li guardavo solo io? Non sapevo neanche fosse un fumetto ed è un fumetto muto. E non vi nego che qualcosa del Fantazoo mi sa che me lo recupero, perché mi ispira veramente un sacco. Adventures of a Japanese Businessmen. Preparati a incontrare una delle persone più sfortunate al mondo in questo romanzo grafico di grandi dimensioni e totalmente senza parole del famoso fumettista spagnolo Joss Domingo. Di pagina in pagina e di pennello in pennello vedrai come il nostro fidato, sempre pieno di risorse, ha cercato di superare una giornata sempre più irregolare. Anche questo sembra molto carino e divertente. Poi abbiamo Arzac di Moebius, quindi un'opera veramente, quantomeno, storica del fumetto. è una sorta di tero guerriero che si aggira in un mondo che sembra appartenere ad un medioevo futuristico, quindi comunque un'ambientazione, un retrofuturo che a me ispira veramente molto. Poi abbiamo un oceano d'amore che so che è piaciuto molto alla Scimmia Blu. Ogni mattina il protagonista, un buffo pescatore, dopo aver gustato le omelette preparate con cura dalla moglie, parte con il suo peschereccio a largo delle coste bretoni. Bretoni. E dovrebbe essere una cosa molto toccante, ironica, perché poi continua con Ma è un giorno e lui a essere travolto, per sbaglio, nelle reti di una gigantesca nave cargo e rimane solo in mezzo al mare con l'unico compagnia di un vecchio gabbiano e per cibo poche scatolette di sardine. Deve essere una roba veramente figa. Anche questo mi ispira molto. Poi abbiamo Steam Park, storia muta a fumetti e autoconcusiva ambientata in Luna Park dal sapore steampunk. Una roba, quindi anche questo è una roba. E concludiamo con Il piccolo vagabondo, un libro muto che si guarda come un cartone animato e si legge come una favola moderna. Un bimbo senza nome ne meta a fare da filo conduttore tra storie che potrebbero avvenire in qualunque città perché appartengono al vissuto di tutta l'umanità. Ma torniamo a noi con Silent Smiles di Elena Vitaliano. Un'intera raccolta di Silent Manga. Elena Vitaliano ha anche vinto il Silent Manga Audition in Giappone con una di queste opere. Sono tutte quante opere mute. È molto interessante il fatto che alla fine di ogni racconto sono racconti veramente diversi, ci sono alcuni più ironici, altri più sentimentali, altri più toccanti. Alla fine del racconto c'è una piccola scheda in cui l'autrice ci racconta un po' come è nata l'opera, di cosa parla, come l'è venuta l'ispirazione, come è stato tutto il percorso per arrivare a vincere questo ambito premio in Giappone. Veramente un'opera interessante della Upper Comics, una bella raccolta, belle storie mute. Io ve la consiglio. Tract di Shintaro Kago. Un volumetto interessante. Non nego, forse è un po' eccessivamente caro, però va bene così. Un volume totalmente muto di Shintaro Kago, quindi ci troveremo dentro follia, violenza e veramente le peggio cose, ma è Shintaro Kago e quindi noi lo amiamo per questo. Morlac, una roba che mi ha veramente colpito un sacco, che tra l'altro mi ha prestato Giorgio Trinchero assieme alle Divin Colonie, o come diavolo si pronuncia, quindi lo ringrazio un sacco. Un'opera veramente folle, un'opera che vediamo inizialmente con una vignetta. In questa vignetta ci sono due bivi e andando avanti vediamo cosa accade al protagonista se va da una parte e cosa accade al protagonista se va dall'altra. Andando ancora avanti ci saranno altre deviazioni, quindi vediamo fondamentalmente il personaggio, cosa gli succederà ogni volta che prende una strada diversa e cosa è successo a quello a lui precedente. Quindi vedremo cominciare a sdoppiare le storie in base alle varie strade che prenderà. Lo so che forse sono stato poco chiaro, ma è veramente una figata. Complicato da seguire, perché comunque alla fine arriveremo a seguire 3, 6, 9, tipo 12 linee temporali differenti. Però veramente un'idea fighissima, raga, fighissimo. Questo volume mi ha coinvolto e mi è piaciuto un sacco. Morlac, c'è solo in edizione francese, ma chi se ne frega è muto. Straconsigliatissimo. Come vi straconsiglio, Prosopopus. Questa è un'opera di una figaggine allucinante. Fondamentalmente vediamo una persona a inizio volume sparare a un'altra persona e poi fuggire. Ovviamente subito non capiamo che diavolo stia succedendo. Questo killer entra a casa e comincia a vedere in casa sua un bizzarro personaggio paffuto e sorridente e ironico. Vi faccio notare la bellezza della differenza dello sguardo tra lui che è super paffuto e sorridente con questo sigaro e l'assassino di quanto è raggelato da questa presenza. In più, questa creatura così, appunto, ironica e paffuta si trasformerà in una creatura... cioè, si trasformerà... si rivelerà in una creatura veramente agghiacciante e angosciante con questo suo sorriso costante. Quindi veramente bellissimo. I disegni sono di una figaggine devastante. Io questo Prosopopus ve lo straconsiglio perché è veramente una lettura, nonostante sia muto, super coinvolgente, super toccante e super intensa. E concludiamo con quello che è effettivamente anche un altro grande classicone, ovvero Squig the Mouse di Mattioli, un'opera che mi è piaciuta tantissimo, un'opera che volevo recuperare da un sacco e ho usato la scusa di dover fare questo video per comprarmela, un'opera in cui vediamo un gatto e un topo menarsi. Ma non solo menarsi, perché sto cercando di farvi vedere perché c'è veramente un sacco di roba che non posso mostrarvi. Cioè, non solo menarsi, perché vediamo veramente un sacco di sesso, droga, violenza estrema qua dentro, ma la cosa che mi è piaciuta un sacco è che io pensavo fondamentalmente che fossero tutte storie autoconclusive, perché erano storie che uscivano su Frigidaire, quindi ho detto, vabbè, saranno tutte storie autoconclusive, ironiche, provocatorie. Invece no, perché fondamentalmente c'è tutta una trama che continua, quindi ogni volta trovano un escamotage assurdo per fare rivivere i personaggi, quindi se il topo uccide il gatto, poi il gatto torna per un motivo. Molto bello il fatto anche che non sia sempre il gatto a inseguire il topo, ma anche il topo a inseguire il gatto, quindi c'è anche una metafora del gioco del potere super interessante, super divertente, io ve lo straconsiglio. E questo era tutto, vi ricordo appunto che potete iscrivervi al canale, trovate in descrizione il link alla mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram, trovate in descrizione parecchi di questi fumetti, andate a spulciarli. Secondo me un'opera muta vale la pena di essere fruita, perché appunto ha tutta una serie di lati positivi, cioè il fatto che non ci siano i dialoghi, non so, riesci in qualche modo a farla più tua e quindi a creare nella tua testa i dialoghi e diventa una roba più toccante e anche particolare da fruire. Quindi se non avete mai provato un'opera muta, lanciatevi su qualcuna di queste, quelle che vi ispira un po' di più. E a questo punto direi che ho parlato già abbastanza, dunque noi, sì, ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!